Cosa significa per voi ricevere questo premio a nome di tutti insomma i comuni della Val d'Alpone? Beh è una grande soddisfazione perché è stato un lavoro che ha coinvolto parecchie amministrazioni quindi non era così semplice trovare la quadra per tutto il lavoro che c'era da fare ma invece siamo stati capaci di fare sinergia di essere uniti insieme e di riuscire a portare a casa questo progetto è veramente una bellissima soddisfazione. Ecco cosa c'è nel futuro allora di questi comuni? Beh la collaborazione che continua perché questo format che abbiamo trovato e che devo dire una volta collaudato si è rivelato davvero funzionale lo stiamo sperimentando anche per la gestione dell'ufficio turistico per la promozione integrata di tutto l'est veronese e poi l'eredità più importante questo percorso questo anello pensate 43 chilometri totali dove i turisti ma anche i nostri residenti la domenica in primavera nel momento più opportuno possono godere di un territorio meraviglioso ma anche di servizi importanti penso alla stazione di ricarica delle bici elettriche penso al punto ristoro penso a tutto quello che oltre aver creato il percorso abbiamo messo nel territorio per renderlo più agevole più bello più fruibile e per lasciare ai turisti un bel ricordo delle nostre località. Grazie Grazie